ciao a tutti ecco voi un nuovo video in questo video vi volevo far vedere i nuovi prodotti che mi sono arrivati nell'ultimo periodo e alcuni sono veramente molto molto interessanti partiamo subito col primo dove è un'azienda che già conoscete che si chiama natural molio che mi ha ricontattato per appunto questa collaborazione per far sì che io provassi i loro prodotti e ve li mostrassi quindi ho accettato perché anche la volta scorsa quando mi hanno contattato mi sono trovata da dio soprattutto con alcuni prodotti che ho finito in tempo zero tipo quello la tipo la bustina al cioccolato che avevo fatto vedere appunto nell'altro video che vi linko comunque anche qua sotto ho ripetuto tante volte comunque partiamo subito mi hanno inviato i loro nuovi tè che il primo che vi faccio vedere si chiama activity fruit slim che in questa confezione e la particolarità è che ha diversi ingredienti leggiamoli insieme pezzi di mela che danno comunque un po di sapore dolciastro al tè lo zenzero che è famosissimo oltre per essere una spezia che uso tantissimo in cucina anche per aumentare le difese immunitarie anche il mettere in movimento diciamo il metabolismo anche quando avete il raffreddore per esempio è famoso fare le tisane con lo zenzero e io lo utilizzo ovunque quindi non vedo l'ora di provarlo la citronella il mate e il mate aiuta a perdere i grassi la liquirizia che è un'altra cosa che io amo follemente perché comunque mi dà carica mi dà positività e aiuta anche la perdita del peso oltre dare un sapore dolciastro alle cose che fate soprattutto io la liquirizia quella pura la utilizzo anche nei dolci oltre che nel tè e gli spicchi d'arancia gli aromi naturali pezzi di vaniglia e fiori d'arancia quindi super super interessante questo prodotto per appunto aiuta la perdita del peso e anche a smuovere come chiamo io il metabolismo tra le altre cose sul sito ho letto una cosa molto interessante perché ero curiosa di capire anche questi packaging e anche qua dietro c'è scritto file t questo che sul sito ho letto che è una collaborazione con questi agricoltori dei paesi dove producono il tè tipo la cina e l'india dove finanzieranno aiuteranno il sostegno di questi paesi con con la creazione di scuole dando comunque dei sostegni agli agricoltori quindi questa cosa mi è piaciuta veramente tantissimo come vi dicevo naturale qua dietro ci sono le varie spiegazioni dove dice la temperatura dell'acqua deve essere a 100 gradi quindi calda e lasciarla in infusione 5-6 minuti a vostra scelta quindi curiosissimo e vi faccio vedere anche l'altro che mi è arrivato l'altro 3 da provare che mi è arrivato è il pur tea green tea detox in questa confezione dove all'interno alcuni prodotti che vi faccio vi spiego subito il tè verde che voi sapete che il tè verde è per eccellenza il detossinante migliore che ci sia anche naturale pezzi di mela appunto per dare il sapore dolciastro fiori di bisco scorza d'arancio menta piperita buccia di cinorodo melissa camomilla lavanda foglie di fragola petali di fiori petali d'arancio erica aromi naturali cardamomo foglie di ortica e finocchio voi sapete che il finocchio è anche sgonfiante vediamo un attimino il cardamomo e l'erica sono delle comunque delle piante che aiutano insieme al tè verde a detossinare il nostro corpo e anche aumentare il difese immunitaria accelerare il metabolismo e gli altri prodotti sempre ottimi servono comunque a dare anche del sapore alla camomilla anche per avere calmare quindi l'utilità di questo prodotto è soprattutto non è che è solo d'estate dobbiamo fare il detox serve anche comunque nel periodo invernale soprattutto quando ci sono i cambi di stagione bere tanto e perché no utilizzare un buon prodotto che aiuti il tutto e come sempre anche questo fa parte del fiertì come chi vi ho spiegato prima acqua calda 5 6 minuti perché mi trovo bene con questi prodotti perché comunque sono naturali e quindi una cosa molto importante hanno delle caratteristiche molto interessanti hanno prodotti particolari e la cosa più bella in assoluto a mio avviso che vi voglio far vedere perché ho curiosato prima è che quando voi avete aprite questo barattolo o comunque anche l'altro trovate al suo interno proprio dei pezzi grossi cioè non è che quindi vanno in economia anche nel prodotto stesso hanno dei pezzi sono pezzi essiccati buonissimi e perché è un po pazze rello come me prenderne uno e mangiarlo non succede niente quindi hanno degli aromi incredibili e mi piacciono veramente tantissimo tra altre cose sono stati gentili perché mi hanno mandato anche una tazza in vetro resistente con l'hashtag e il tiz happy non so se ho pronunciato giusto perché sapete che il mio inglese non è il massimo ve la faccio vedere così in caso mi correggete assolutamente voi e quindi poi si può mettere già fatta apposta si può mettere il tè qua dentro voi sapete che sono un amante di tè perché ormai se mi seguite da tanto o anche sui social sapete che lo bevo la mattina lo porto a lavoro lo bevo la sera mi piace variare quindi sono super felice di provare queste cose vi faccio vedere due cose molto molto particolari diversi dal solito che mi hanno inviato qual è il primo prodotto particolare a mio avviso che vi voglio far vedere cosa sono le carb blocker che sono in questa confezione poi vi faccio vedere le capsule che cosa sono sono delle capsule che servono a bloccare i carboidrati o bene voi sapete che comunque i carboidrati è un alimento chiamiamolo così che viene utilizzato sempre perché anche io molto spesso quasi tutti i giorni mangio qualcosa che fa parte della famiglia dei carboidrati però voi sapete che i carboidrati anche lo svantaggio che se mangiati in eccesso comunque si depositano aumentano il peso vi appesantiscono quindi diciamo che hanno le loro caratteristiche positive e alcune negative queste capsule qual è la loro funzione di bloccare tutte queste parti negative perché perché comunque assicurano che meno carboidrati possibili vengono assimilati dal corpo poi meno grasso quindi meno meno calorie diciamo e oltretutto sono ricchi di vitamine come funzionano queste capsule c'è scritto anche dietro infatti c'è scritto capsule naturali blocca carboidrati per aiutare la perdita di peso prendere due capsule 15 minuti prima dei due pasti principali esempio colazione cena non superare le dosi di quattro capsule al giorno oltretutto qua e anche sul sito avevo visto che parlavano dell'estatto vegetale di id alg che ero curiosa e sono andata a leggermi cos'è perché non è che possiamo prendere non è che se un'azienda mi invia qualcosa diamo per certo che sia buono prima mi informo o eventualmente provo i prodotti a secondo appunto della tipologia di collaborazione oppure anche di quello che mi ispira io qua vado molto a botta sicura però ve l'ho già detto perché è un marchio che mi piace comunque venendo a noi cos'è questa cosa è un'alga dove nel 2016 sono stati fatti dei test apposta per vedere l'effetto sulle persone e soprattutto in sovrappeso e hanno visto che hanno aiutato la perdita del grasso e sono anche comunque delle capsule facilmente tollerabili da tutti oltretutto infatti ci si è scritto che sono anche vegane quindi comunque hanno delle buonissime caratteristiche a mio avviso e sono molto curiosa di provarla anche perché voi sapete che seguo una corretta alimentazione anche se mangio tanti dolci perché li faccio io faccio dello sport e quindi secondo me questo è il top anche perché io sono proprio dipendente dai carboidrati soprattutto quando sono di fretta perché le cose sono anche le cose più facili da fare e queste è il formato delle capsule quindi vedete non vi spaventate se sembrano grandi ma nella realtà non lo sono anche perché prese con l'acqua vanno giù che è un piacere come dico io l'ultimo prodotto sempre loro che mi è arrivato sono le Fit Cups che sono queste in questo barattolino dove dicono che sono composti da peperoncino matete verde che comunque sono famosi per movimentare come vi dicevo prima nel tè il metabolismo e bruciare i grassi sono veramente molto molto utili soprattutto vi leggo anche cosa c'è scritto soprattutto se voi fate attività fisica perché nel giorno di preallenamento quindi circa un'ora prima dell'attività fisica assumere una volta al giorno tre capsule con acqua e vi aiuterà comunque durante l'attività fisica a bruciare più facilmente i grassi se no è nei giorni senza allenamento assumere una capsule insieme a pasti tre volte al giorno con acqua c'è scritto integratore alimentare con zinco, vitamine ed estratti vegetali quindi anche come al solito è naturale e anche questo prodotto è fatto in capsule come vi avevo fatto vedere prima quindi sono dei prodotti molto mirati, molto interessanti ma soprattutto hanno uno scopo ben preciso quindi a secondo di quello che è la vostra esigenza potete prendere uno o l'altro oppure come penso di fare io mixare perché io di integratori ne ho presi tantissimo e ne prendo tuttora tanti però diciamo che non sono quella che tutti i giorni prende integratori tutti i giorni sta attenta agli integratori che prende nel senso che io li ho tutti sul tavolo dove faccio colazione e li alterno a secondo delle giornate una volta prendo il magnesio, una volta prendo la vitamina C una volta prendo appunto degli integratori per bruciare durante lo sport insomma prendo diversi integratori non fanno male perché gli integratori sono una cosa positiva che soprattutto al corpo serve quindi io consiglio caldamente di prenderli perché ve l'avevo detto quando ho iniziato il percorso fitness avevo appunto parlato con questo personal trainer che è anche nutrizionista era stato proprio lui a dirmi guarda che gli integratori vanno presi guarda che non è una cosa brutta, non è una cosa che fa male non è una cosa strana perché non è neanche una cosa che tutti fanno quindi bisogna semplicemente mettersi nell'ottica che gli integratori non fanno assolutamente male tra altre cose ci sono gli ingredienti quindi potete benissimo leggere anche sul sito gli ingredienti e scegliere quello che più vi piace venendo a noi volevo comunque dirvi che l'azienda come al solito mi ha messo anche in paglio uno sconto dove io non ricavo niente più che altro uno sconto per voi dove appunto potete prendere questi prodotti o comunque in generale curiosare il sito e avere lo sconto e qua sotto vi lascio il codice sconto appunto spero che questi prodotti siano interessanti ho dedicato più tempo perché essendo una questione fitness se essendo una questione attività se è una questione salute e voi sapete che ci tengo molto tant'è che faccio anche una rubrica su questo argomento quindi se vi fa piacere o vi interessa fatemi sapere se nella prossima rubrica volete sapere anche cosa proprio ne penso dopo un mese un mese e mezzo di realizzo perché tanto per il prossimo mese non penso di registrare aggiornamenti ma voglio assolutamente provare questi prodotti quindi fatemi sapere qua sotto se vi interessa proprio la mia opinione post video quindi quando inizierò effettivamente a utilizzarle fatemi sapere passiamo agli altri arrivi da mesauda poi mi è arrivata la nuova collezione di semi permanenti di questo periodo e quindi voglio farvi vedere assolutamente i colori il primo colore è il 185 che è questo tutti ovviamente sui colori del marroncino poi abbiamo il 186 che è questo abbiamo poi il 187 voi state vedendo anche gli swatch quindi meglio di così non si può il 189 e il 190 come al solito sono semi permanenti super coprenti che mi trovo bene soprattutto come colori sia nella ricostruzione che nel semi permanente perché si sciogliono si sciogliono si sciogliono senza problemi e quindi è una collezione che mi piace tantissimo insieme a questa collezione mi è arrivata un'altra di estrosa che anche questa mi interessa ma che in questo periodo sono i periodi che arrivano appunto tutte le collezioni dei semi permanenti del periodo e mi viene sempre voglia di utilizzare questi colori rispetto a quelli precedenti perché appunto sono nuovi e vi faccio vedere anche quelli di estrosa la nuova collezione di estrosa si chiama gemstone e infatti questo è il volantino che è arrivato sono quattro colori che richiamano appunto le pietre questo è il volantino bello perché hanno fatto questa bocca piena di strass partiamo subito dal primo colore il primo colore che mi è arrivato è royal ruby che è questo color rosso tendente a rose state vedendo comunque al violaccio state vedendo comunque lo swatch che di certo è meglio del mio parlare poi la seconda colorazione si chiama red diamond che è un colore più simile al vinaccia il terzo colore è un red garnet che è un colore più che altro mattone poi mi direte voi se la mia spiegazione è corretta e infine abbiamo il crystal rose che è questo bellissimo rosa che mi è piaciuto veramente tantissimo e appunto sono dei colori per quest'autunno questa è la collezione che mi è arrivato da estrosa passiamo alla prossima collezione viene sempre da mesado mi ero dimenticato dell'altro pacchettino che è arrivato sono arrivati nuovi smalti vi faccio vedere la brochure perché è molto interessante perché dice che la shine wear è perfetta combinazione tra un finish brillante e una durata eccezionale lo smalto garantisce un tempo ottimale di asciugatura e rimane impeccabile a lungo fino a 7 giorni la sua innovazione sta nel totale controllo della stesura con un pennello brevettato easy application un pennello molto interessante ne ho già aperto uno che scivola facilmente sull'unghia c'è il formato da 5 o da 10 ml tra altre cose mi dimenticavo che tantissimi di voi mi chiedono sempre dove trovare i prodotti di mesauda al momento non hanno ancora un sito internet ma ho trovato online oppure dai loro rivenditori presto però spero anche molto molto presto aprono questo fantastico e-commerce online vi faccio vedere subito i colori io ho ricevuto il 219 che è questo poi il 220 il 221 il 222 il 223 il 224 il 225 il 226 e infine il 227 questa è la collezione i colori che mi sono arrivati di mesauda interessante non vedo l'ora di provarmi alcuni e alcuni ovviamente li lascio a voi perché almeno proviamo in due e sappiamo com'è questo è tutto quello che mi è arrivato appunto nell'ultima settimana che direi che è anche abbastanza fatemi sapere un po' i vostri opinioni i vostri pareri come al solito e al prossimo video un grosso bacio ciao ciao